Il tuo computer Windows è lento, funziona male, oppure vorresti soltanto fargli una sorta di manutenzione preventiva così che possa accompagnarti ancora per tanti, tantissimi anni, ma non sai da dove iniziare? Beh, questo è il tuo giorno fortunato perché forse per una volta Microsoft l'ha fatta giusta ed ha creato un software dedicato proprio alla pulizia e alla manutenzione del caro vecchio Windows che strizza l'occhio a tutti i suoi utenti, sia i più che meno esperti e che promette di risolvere in un paio di click una montagna di problemi e soprattutto fare un tagliandino che Dominic Toretto scansa tilesto qua urge usare la cintura di sicurezza per mettere mano a sto computer Il suo nome è Microsoft PC Manager e in rete se ne parla già come di un'eccellente novità e dopo diversi mesi di sviluppo Microsoft ne ha finalmente rilasciato una versione stabile, ovvero pienamente funzionante la quale, va detto, in molte sue parti ricorda il caro vecchio C-Cleaner il tool di pulizia e manutenzione forse più utilizzato al mondo e in auge per migliaia di anni il quale ad un certo punto si è però scoperto integrare al suo interno un malware e quindi tanti saluti alla sua reputazione Ma oggi non parliamo di C-Cleaner, bensì di questo nuovissimo Microsoft PC Manager semplice, veloce e dal design accattivante che garantisce una user experience di primo livello e la miglior manutenzione possibile per il nostro computer o almeno, stanto a quanto dice la casa di Redmond perché sì, tutto è bello sulla carta ma pure C-Cleaner era fantastico e abbiamo visto come è finita Per cui chiappe in spalle diamo un'occhiata più da vicino a questo Microsoft PC Manager per vedere come e soprattutto se è davvero in grado di manutenere, ottimizzare e migliorare il nostro computer Solo prima di cominciare concedimi come sempre un istante per ricordarti di lasciare un like e iscriverti al canale per supportarlo attivamente attivando anche la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni ogni giovedì ore 12.30 Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e benvenuto o benvenuta qui su IT Support Io sono Doc e quest'oggi parleremo appunto di Microsoft PC Manager Di norma non mi occupo di questo genere d'argomenti sul canale e chi mi segue già da tempo lo sa bene Tuttavia, dopo aver pubblicato tempo addietro a quel video in cui parlavo male del caro vecchio C-Cleaner diversi di voi hanno posto in essere una giustissima questione Se non C-Cleaner, cosa posso usare per manutenere il mio computer? Perché sì, come dicevo anche in quel famoso video il quale ovviamente se vi siete persi vi lascio linkato sia in descrizione che on screen non ci vuole molto per eseguire i vari processi manualmente uno per uno ma questo posto di sapersi muovere correttamente nel sistema operativo evitando di cliccare roba a casaccio come purtroppo vedo e sento fare davvero spessissimo E quindi Microsoft PC Manager potrebbe essere la risposta a questa domanda per cui anzitutto scarichiamolo Da dove? Beh, a seconda di quando starai guardando questo video esso potrebbe già essere presente nello store di Windows oppure non ancora ma se così fosse non preoccuparti perché ti lascio qui in descrizione il link diretto alla pagina Microsoft E quindi download, installazione, avvio ed eccoci faccia a faccia con questo PC Manager La sua interfaccia è quanto mai minimale data la compattezza e disposizione delle voci e a me personalmente, devo dirlo, ricorda più un widget che un programma tuttavia mai giudicare un book dalla sua cover Siamo d'accordo? Alla schermata home troviamo il collegamento alla principale funzione di questo PC Manager Boost, la quale permette di eliminare i file temporanei e ribullire la memoria RAM ove possibile Subito accanto poi troviamo il tasto Set Smart Boost il quale, se cliccato, si riporta ad una sezione specifica delle impostazioni all'interno di cui è possibile abilitare questa funzione la quale, come scritto, imposta l'esecuzione automatica della funzione Boost in caso di ingente utilizzo della memoria RAM oppure oltre il gigabyte di file temporanei Proseguendo sull'home troviamo poi l'opzione Check Health la quale permette sì di cancellare i file temporanei ma anche di ripristinare la barra delle applicazioni funzionamento, estensioni ed apparenza e soprattutto disabilitare le app di avvio ossia tutti quei programmi che partono in automatico all'avvio di Windows causandone sovente un rallentamento E prima di mettere mano a questa sezione però occhio alla pena perché sì, in linea di massima i programmi in essa elencati non sono vitali al funzionamento di Windows ma la loro disabilitazione potrebbe comunque causarti qualche noia pertanto, come dico sempre, muoviti con cognizione di causa e se hai un dubbio, chiedi sono qui per quello Next, sempre da home, la voce Process che, analogamente al Task Manager di Windows, permette di visualizzare i processi attivi sul nostro PC e decidere se cassarne qualcuno di inutilizzato o particolarmente energivolo Deep Cleanup è poi la versione sborona dell'opzione Boost che ci permette di scavare più a fondo nel nostro computer alla ricerca di tutti i dati di cache che, oramai inutili e stagnanti lì da chissà quanto servono meno delle sopracciglia Goku in modalità Super Saiyan di terzo livello Ecco, in questo caso la schermata che ci viene proposta al termine della scansione è pari pari a quella di SeaCleaner ma questo non è per forza male, perché in vero ci permette di scegliere singolarmente che cosa cancellare e quindi torna in essere la questione di poc'anzi, occhio a dove metti le mani perché cancellare roba a casaccio da questo elenco potrebbe davvero esserti una monumentale rottura di scatole più che altro perché questi file contengono soventi impostazioni e o preferenze relative ai programmi installati o allo stesso sistema operativo nel dubbio quindi a meno di approfondire singolarmente voce per voce e chiedi al sottoscritto oppure limitati a brasare ciò che già ti propone PC Manager A seguire Startup il quale, come suggerisce il nome, permette di identificare tutte le app di programmi che partono in automatico all'avvio di Windows e qui 9 su 10 o comunque per la maggiore troveremo elementi come i launcher di videogames tipo Steam o Uplay oppure assistenti browser tipo Edge preinstallato ma anche Java, Adobe e via simili i quali non fanno altro che appesantire e sovente quindi rallentare l'avvio del nostro computer interpretando quindi evitando tassativamente come la peste, elementi come Windows Defender e altri relativi al sistema operativo in questa schermata puoi operare decisamente più a cuor leggero e disattivare tutto ciò che pur servendoti installato non è fondamentale che si avvia l'accensione e qui non preoccuparti perché qualora dovessi disattivare qualcosa di invece necessario potrai semplicemente cliccare di nuovo su quello stesso bottone riavviare il PC e tutto sarà tornato come prima segue poi il menu Protection contenente diverse voci tra cui in primis un collegamento rapido a Windows Defender l'antivirus base gratuito e integrato nel sistema operativo tramite il quale ci è possibile eseguire scansioni e controllare lo stato dello stesso altrettanto poi è possibile controllare gli aggiornamenti di Windows modificare il nostro browser di default e attenzione non a caso qui vedi specificato Edge ma non ti dico altro perché sarà l'argomento di un prossimo video ed infine riparare la taskbar ovvero la barra degli strumenti ripristinare le app di default e gestire oppure bloccare le notifiche pop-up di Windows e occhio perché queste ultime tre sono proprio le opzioni più interessanti del menu Protection mettiamo caso che tu abbia scaricato un programma tramite oscenità tipo soft tonico fai lipo mai non farlo mai e chissà perché dopo la sua installazione ti ritrovi con la barra degli strumenti scombinata nei modi più assurdi oppure classico l'app del Microsoft Store smette di funzionare o ancora non passano 30 secondi senza cavignati bombardati da una pioggia di notifiche pop-up ecco in tutti questi casi le tre opzioni di cui abbiamo parlato poc'anzi dovrebbero, perché il condizionale è sempre doveroso, risolvere la situazione in ultimo il menu Storage all'interno del quale è presente la già vista funzione Deep Cleanup unitamente ad altre chicchine molto interessanti Manage Large Files che permette di eseguire una ricerca a 360 gradi del nostro computer alla ricerca dei file più ciccioni o comunque della dimensione del formato che andremo a specificare funzione molto utile per renderci conto di come sia occupato il nostro disco e nel caso cancellare altre inutilità infine l'opzione Storage Sense permette invece di accedere alle impostazioni di Windows per attivare il sensore di memoria ennesima funzione personalizzabile dedicata alla pulizia automatica In vero, e qui ci tengo a fare un piccolo appunto le opzioni presenti nel menu Storage della versione ufficiale di PC Manager sono meno di quelle della versione Beta pertanto è lecito pensare che in futuro troveremo ulteriori funzioni e opzioni spero altrettanto se non ancora più utili Il menu Apps è poi un altro recap di funzioni già viste sulla Home con l'aggiunta di qualche scorciatoia dall'elenco delle app installate del nostro PC e al Microsoft Store per meglio gestire installazioni e rimozioni Anche qui si tratta di funzioni utili alla corretta manutenzione del nostro computer ma in realtà nulla di particolare Ed infine chiude la coda il menu Toolbox ovvero quello che definirei al momento il più inutile tra tutti in quanto contiene null'altro che un paio di scorciatoie a diciamo funzioni basi di Windows ed un pulsante necessario ad abilitare un banalissimo widget sullo schermo contenente le medesime inanità E quindi tirando le somme ha senso oppure no usare questo Microsoft PC Manager? Beh la risposta è dipende Lo so lo so vuol dire tutto e niente ma di fatto stiamo parlando di un programma che non aggiunge assolutamente nessuna funzione a Windows ma si limita unicamente a raggruppare quelle già disponibili all'interno di una sola va detto semplice applicazione Pertanto se sei tu neofito il classico utente livello 0 si te lo consiglio PC Manager potrebbe davvero fare al caso tuo grazie alla sua interfaccia semplice e deduttiva tramite cui potrai facilmente manutenere il tuo computer in pochi e semplici click Diversamente come detto prima non otteniamo alcun vantaggio dal suo utilizzo se non il raggruppamento e quindi una certa facilità d'uso e reperibilità delle funzioni già presenti in Windows Pertanto se sei tu già schillato o più ora ti piace mettere le mani in pasta certo come il like che mi hai appena lasciato non troverai alcuna ragione per installare quest'app nel tuo computer fermo restando comunque che tra essa e il vecchio C-Cleaner spiace dirlo ma prediligo la soluzione di casa Microsoft anche soltanto per l'impossibilità di commettere qualche grosso casino dato da un suo improprio utilizzo Pertanto come disse anche Michele figlio di Jack this is it questo è quanto Io come sempre ti ringrazio per avermi seguito in questi minuti e se ho dimenticato qualcosa oppure vuoi porne una domanda sei liberissimo di scrivermi qui sotto nei commenti Proverai questo PC Manager? Gli darai una chance? Oppure no? Cosa ne pensi? Lo ritieni migliore o peggiore del prodotto di Casa P-Riforma? Fammi sapere cosa ne pensi e mi raccomando se il video ti è piaciuto ricordati di spolliciarlo prima di andare via Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12.30 con un nuovo episodio Non cambiare canale Grazie a tutti